25. Una sigaretta? Le fu offerto un pacco di Winston e sorella ne prese una. Doyle Halland accese un accendino a gas dorato con le iniziali RBR sul fianco. Quando la sigaretta fu accesa, sorella inspirò il fumo profondamente nei polmoni. Non era certo più il caso di preoccuparsi del cancro e lo lasciò uscire lentamente dalle narici. Un fuoco scoppiettava nel cammino della piccola casa di periferia con la struttura in legno in cui avevano deciso di ripararsi per la notte. Tutte le finestre erano rotte, ma erano stati in grado di intrappolare un po' di calore nella stanza sul davanti grazie a una fortunata scoperta di coperte, un martello e dei chiodi. Avevano inchiodato le coperte sulle finestre più grandi e si erano rannicchiati intorno al camino. Il frigorifero aveva restituito un barattolo di salsa al cioccolato, della limonata in una caraffa di plastica e una lattuga marrone. Nella dispensa c'era solo mezza scatola di crusca con uvetta e qualche altro barattolo e vasetto di resti. Comunque tutto era commestibile e sorella si infilò i barattoli e i vasetti nella borsa che stava iniziando a riempirsi con le cose che aveva recuperato. Presto sarebbe stata ora di trovare una seconda borsa. Durante il giorno avevano percorso poco più di otto chilometri attraverso la distesa silenziosa dei soborghi di Jersey City, dirigendosi verso ovest lungo l'interstatale 280 e attraversando la Garden State Parkway. Il freddo feroce era penetrato fino alle ossa e il sole non era più che una macchia grigia in un cielo basso e di un marrone fangoso screziato di rosso. Ma sorella aveva notato che più si allontanavano da Manhattan più edifici restavano ancora intatti, anche se quasi tutti avevano finestre esplose ed erano piegati, come se fossero stati staccati dalle fondamenta. Poi avevano raggiunto un'area di case a due piani, ammassate a migliaia, minacciose e rotte come piccoli manieri gotici su prati grandi quanto francobolli e bruciati, del colore delle foglie morte. Sorella si era accorta che nessuno degli alberi o dei cespugli che vedeva aveva più uno straccio di vegetazione. Non c'era più nulla di verde ormai. Tutto aveva il colore brunastro, grigio e nero della morte. Avevano visto le loro prime auto, che non erano state ridotte a spazzatura. Qua e là, sulla strada, c'erano veicoli abbandonati con la vernice scrostata e il parabrezza in frantumi. Solo una di queste aveva una chiave, ma si era rotta e incastrata nell'accensione. Avevano proseguito, tremando nel freddo, mentre il cerchio grigio del sole si muoveva nel cielo. Avevano incontrato una donna, con addosso uno stentato accappatoio blu e il volto gonfio e lacero, che sedeva sotto un porticato e che li aveva scherniti quando erano passati. «Siete in ritardo!» aveva urlato. «Se ne sono andati tutti! Siete in ritardo!» In grembo aveva una pistola, per cui avevano continuato a camminare. In un altro punto c'era stato un uomo morto, con il volto viola e la testa orribilmente sfigurata, che era appoggiato al cartello di una fermata dell'autobus e sorrideva al cielo, con le mani serrate intorno a una ventiquattro ore. Fu nelle tasche del cappotto di questo cadavere che Doyle Haaland trovò il pacchetto di Winston e l'accendino a gas. Se ne erano davvero andati tutti. C'erano alcuni cadaveri sui prati davanti alle case, sui marciapiedi o riversi su dei gradini, ma quelli che erano ancora vivi e ancora relativamente sani di mente erano fuggiti dal raggio dell'olocausto. Seduta davanti al fuoco e fumando la sigaretta di un morto, sorella immaginò un esodo dalle periferie, con gli abitanti che riempivano freneticamente federe e sacchetti di carta con cibo e tutto quello che riuscivano a trasportare, mentre Manhattan si fondeva al di là delle palisades. Avevano preso i loro bambini e abbandonato gli animali, fuggendo verso ovest, davanti alla pioggia nera, come un esercito di barboni e barbone. Ma avevano lasciato indietro le loro coperte, perché era a metà luglio. Nessuno si aspettava che facesse freddo. Volevano solo allontanarsi dal fuoco. Dove stavano scappando e dove si sarebbero nascosti? Il freddo li avrebbe raggiunti e molti di loro sarebbero già stati addormentati tra le sue braccia. Dietro di lei gli altri erano rannicchiati sul pavimento e dormivano su cuscini di divani e coperti da tappeti. Sorella fece un altro tiro dalla sigaretta e poi guardò il profilo dai lineamenti marcati di Doyle Holland. L'uomo stava fissando il fuoco, con una Winston tra le labbra, e con una mano dalle lunghe dita si stava attentamente massaggiando la gamba trapassata dalla scheggia. Quell'uomo era dannatamente duro, pensò Sorella. Quel giorno non aveva mai chiesto, nemmeno una volta, di fermarsi per far riposare la gamba, anche se il dolore nel camminare lo aveva fatto diventare pallido come il gesso. E allora che stavi pensando di fare? Gli chiese Sorella. Restare nei dintorni di quella chiesa per sempre? Lui esitò qualche istante prima di rispondere. No, disse. Non per sempre. Solo fino a quando... non lo so, solo fino a quando sarebbe passato qualcuno che stava andando da qualche parte. Perché non te ne sei andato con gli altri? Sono rimasto per dare l'estrema unzione a quanti più possibile. Dopo sei ore dall'esplosione ne avevo fatte così tante ed aver perso la voce. Non potevo parlare e c'era così tanta altra gente che moriva. Mi imploravano di salvare le loro anime. Mi imploravano di farle andare in paradiso. Le lanciò una rapida occhiata e poi tornò a guardare avanti. Aveva occhi grigi, punteggiati di verde. Mi imploravano, ripetè piano. E io non riuscivo nemmeno a parlare. Così ho fatto su di loro il segno della croce e li... li ho baciati. Ho dato loro il bacio della buonanotte e si sono fidati tutti di me. fece un tiro dalla sigaretta, espirò il fumo e lo guardò galleggiare verso il camino. San Matteo è stata la mia chiesa per oltre dodici anni. Continuavo a tornare lì e a camminare tra le rovine, tentando di capire cosa fosse accaduto. Avevamo delle statue e delle vetrate bellissime. dodici anni. Scosse lentamente la testa. Mi dispiace, disse sorella. E perché dovrebbe? Tu non hai avuto nulla a che fare con questo. È solo qualcosa che è finito fuori controllo. Forse nessuno avrebbe potuto fermarlo. La guardò di nuovo e questa volta il suo sguardo si soffermò sulla ferita incrostata nell'incavo della sua gola. Quello cos'è? Le chiese. Sembra quasi un crocifisso. La donna toccò la ferita. Indossavo una catena con una croce attaccata. Cos'è successo? Qualcuno... si fermò. Come poteva descriverlo? Ancora adesso la sua mente fuggiva da quel ricordo. Non era una cosa sicura a cui pensare. Qualcuno me l'ha preso, continuò. Lui a noi pensieroso e fece uscire del fumo dall'angolo della bocca. Attraverso il fumo blu i suoi occhi cercarono quelli di lei. Credi in Dio? Sì, ci credo. Perché? Chiese lui piano. Credo in Dio perché un giorno Gesù verrà e porterà tutti i degni nelle... No. Disse a se stessa. No. Quella era sorella Crip che blatterava di cose che aveva sentito dire da altre barbone. Fece una pausa, raccogliendo i pensieri e poi disse. Credo in Dio perché sono viva e non credo che sarei riuscita ad arrivare fino a questo punto da sola. credo in Dio perché credo che vivrò per vedere un altro giorno. Tu credi perché credi, disse lui. Non è una cosa molto logica, vero? Stai dicendo che tu non credi? Doyle Halland sorrise con aria assente. Il sorriso scivolò lentamente via dal suo volto. Pensi davvero che Dio tenga il suo sguardo su di te, signora? E sì, che gli interessi davvero che tu viva un giorno in più oppure no? Che cosa rende te più speciale di tutti i cadaveri che abbiamo visto oggi? Dio non si è interessato di loro? Tenne l'accendino con le iniziali sul palmo della mano. Che mi dici del signor RBR? Non andava in chiesa abbastanza. Non era un bravo ragazzo? Io non so se Dio tiene lo sguardo su di me o no, rispose sorella. Ma spero che lo faccia. Spero di essere abbastanza importante. Che siamo tutti abbastanza importanti. Per quanto riguarda i morti, forse loro sono stati infortunati. Non lo so. Forse lo sono stati. Concordò lui. Rimise in tasca l'accendino. Non so più se ci sia qualcosa per cui vivere ancora. Dove stiamo andando? Perché stiamo andando da qualsiasi parte? Voglio dire, un posto vale l'altro per morire, no? Non ho intenzione di morire nel prossimo futuro. Credo che Arti voglia tornare a Detroit. Andrò lì con lui. E dopo? Se arrivate a Detroit? Lei si strinse nelle spalle. Come ho detto, non ho intenzione di morire. Continuerò a camminare fino a quando ce la farò. Nessuno ha intenzione di morire, disse lui. Molto tempo fa ero un ottimista. Credevo nei miracoli. Ma sai che è successo? Sono invecchiato. E il mondo è diventato un posto peggiore. Servivo e credevo in Dio con tutto il mio cuore, con ogni grammo di fede che avevo in corpo. I suoi occhi si strinsero leggermente, come se stesse guardando qualcosa molto al di là del fuoco. Come ho detto, quello era molto tempo fa. Ero un ottimista. Adesso immagino di essere un opportunista. Sono molto bravo a giudicare in che direzione soffia il vento. E devo dire che adesso considero Dio, o il potere che chiamiamo Dio, come molto, molto debole. Una candela morente, se preferisci, circondata dall'oscurità. E l'oscurità si sta avvicinando. Sedette immobile, limitandosi a guardare bruciare il fuoco. Non è un discorso molto da sacerdote. Non mi sento nemmeno tale. Mi sento solo come un uomo consumato in un abito nero con uno stupido colletto bianco sporco. La cosa ti sconvolge? No, non credo di poter essere più sconvolta da qualcosa. Bene. Allora questo significa che anche tu stai diventando meno ottimista, vero? Grugni. Mi dispiace. Immagino di non suonare come Spencer Tracy in La città dei ragazzi, vero? Ma quelle estreme unzioni che ho dato mi sono uscite di bocca come cenere e non riesco a togliermi quel dannato sapore dalla bocca. Il suo sguardo scivolò sulla borsa accanto a sorella. Cos'è quella cosa che vi ho visto tenere in mano la notte scorsa? La cosa ha di vetro. È qualcosa che ho trovato sulla quinta strada. Posso vederla? Sorella lo tirò fuori dalla borsa. I gioielli intrappolati nel cerchio di vetro esplosero in un arcobaleno scintillante. I riflessi danzarono sulle pareti della stanza e colpirono sia il volto di sorella che quello di Doyle Holland. Lui trattenne il respiro, perché era la prima volta che riusciva a guardarlo per bene. I suoi occhi si allargarono e i colori scintillarono nelle sue pupille. Si allungò per toccarlo, ma ritrasse la mano all'ultimo istante. Che cos'è? Solo vetro e gioielli fusi insieme. Ma la scorsa notte, proprio prima che arrivassi tu, questa cosa ha fatto qualcosa di meraviglioso. Qualcosa che ancora non riesco a spiegarmi. Gli raccontò di Julia Castiglio e di come erano state in grado di capire l'una la lingua dell'altra quando erano collegate dal cerchio di vetro. Lui ascoltò con attenzione. Beth ha detto che questa cosa è magica. Io non so se lo sia. So che è molto strana. Guarda come segue il ritmo del mio battito. Il modo in cui brilla. Non so cosa sia, ma sono sicurissima che non lo metterò via. «Una corona», disse lui piano. «Ho sentito dire a Beth che potrebbe essere una corona. Sembra una tiara, vero?» «Immagino di sì. Non proprio uguale alle tiare delle vetrine di Tiffany, comunque. Voglio dire, è tutta storta e strana. Ricordo che volevo darmi per vinta, volevo morire. E poi ho trovato questo e mi ha fatto pensare che... non lo so, è stupido, immagino. Continua», l'ha incitato lui. «Mi ha fatto pensare alla sabbia», gli disse sorella. «Che la sabbia è quasi la cosa più inutile del mondo, eppure guarda cosa può diventare nelle mani giuste». Fece scorrere le dita sulla superficie vellutata del vetro. «Anche la cosa più inutile del mondo può essere bella», disse. «Ci vuole solo il tocco giusto. Ma vedere questa cosa così bella e tenerla in mano mi ha fatto pensare che nemmeno io ero così inutile. Mi ha fatto venire voglia di muovere il culo e vivere. Ero pazza, ma dopo aver trovato questo non ero più così pazza. Forse parte di me lo è ancora, non lo so, ma voglio credere che tutta la bellezza nel mondo non è ancora morta. voglio credere che la bellezza può essere salvata». «Non ho visto molta bellezza negli ultimi giorni», rispose lui. «Tranne per quello. Hai ragione. È un bellissimo pezzo di spazzatura». Fece un debole sorriso. «O una corona. O qualunque cosa tu scelga di credere». Sorella Anui esclutò nelle profondità del cerchio di vetro. Sotto il vetro i fili di metalli preziosi fiammeggiavano come fuochi d'artificio. La sua attenzione fu attratta dalla pulsazione di un grosso topazio marrone e il suo ritmo ipnotico, così morbido e regolare, le riempì il campo visivo. «Oh», pensò. «E tu cosa sei? cosa sei?» «Cosa?» sbattì le palpebre. Non stava più tenendo in mano il cerchio di vetro e non era più seduta davanti al fuoco nella casa del New Jersey. Intorno a lei soffiava il vento e sentì l'odore di terra secca e bruciata e qualcos'altro. Cos'era? «Sì, adesso lo sapeva. Era l'odore di Gran Turco bruciato. Era in piedi su una pianura vasta e piatta e il cielo sopra di lei era una massa vorticante di sporche nuvole grigie, attraverso cui cadevano lampi di un blu elettrico. Intorno a lei c'erano migliaia di stocchi di Gran Turco carbonizzati e l'unica peculiarità di quella terribile desolazione era una grande cupola che sembrava una tomba, a un centinaio di metri di distanza. «Sto sognando», pensò. «In realtà sono seduta nel New Jersey. Questo è il paesaggio di un sogno. Un'immagine nella mia mente, tutto qua. Posso svegliarmi quando voglio e sarò di nuovo nel New Jersey». Guardò la strana cupola e si chiese quanto potesse estendere i limiti di questo sogno. «Se faccio un passo», pensò, «tutto cadrà a pezzi come un set cinematografico». Decise di scoprirlo e fece un passo. Il paesaggio del sogno restò intatto. «Se questo è un sogno», disse a se stessa, «allora per Dio sto camminando nel sogno di un posto molto lontano dal New Jersey perché posso sentire quel vento sulla faccia». Camminò verso la cupola sul suolo secco e sugli stocchi di Gran Turco. I suoi piedi non alzavano polvere ed ebbe la sensazione di scivolare sul paesaggio come un fantasma più che di camminare davvero, anche se sapeva che le sue gambe si stavano muovendo. Mentre si avvicinava alla cupola si accorse che era una montagna di terra. Migliaia di stocchi bruciati, pezzi di legno e mattoni di calcestruzzo, tutti ammassati insieme. Nelle vicinanze c'era una cosa contorta, che una volta avrebbe potuto essere un'auto, e un'altra si trovava a dieci o quindici metri oltre la prima. Altri pezzi di metallo, legno e rottami erano sparsi intorno a lei. Qui c'era quella che sembrava la pistola di una pompa di carburante, lì c'era il coperchio bruciato di una valigia. Resti di abiti, abiti piccoli, erano sparsi lì intorno. Sorella camminò. Camminò nel sogno, come pensava, accanto a una ruota di carro mezza sepolta nella terra. E c'erano i resti di un cartello su cui c'erano ancora delle lettere, appena riconoscibili. P-A-W. Si fermò a una ventina di metri dalla cupola, che sembrava una tomba. Una cosa strana da sognare, pensò. Potrei sognare una grossa bistecca e una coppa di gelato. Sorella guardò in tutte le direzioni e non vide altro che desolazione. Ma no, qualcosa terra aveva attirato la sua attenzione. Una piccola figura di qualche tipo. E nel sogno camminò verso di essa. Una bambola, si rese conto quando si avvicinò. Una bambola con un po' di pelliccia blu ancora attaccata al corpo e due occhi di plastica con delle pupille nere che sorella sapeva che avrebbero oscillato se l'avesse sollevata. Si fermò sopra alla bambola. Quella cosa aveva qualcosa di familiare e lei pensò a sua figlia morta, seduta davanti alla tv. Repliche di una vecchia serie per bambini chiamata Sesamo Apriti. Erano state uno dei suoi programmi preferiti. E sorella ricordò la bambina indicare felice lo schermo e gridare Cookie! Il Cookie Monster, sì, ecco chi c'era ai suoi piedi. Qualcosa in quella bambola lì, in quella piana desolata. Fece risuonare una nota di tremenda tristezza nel cuore di sorella. Dov'era il bambino a cui quella bambola apparteneva? Spazzato via dal vento o sepolto sotto la terra? Si chinò per raccogliere la bambola e le sue mani l'attraversarono, come se la scena o lei fosse fatta di fumo. Questo è un sogno, pensò sorella. Questo non è reale, questo è un miraggio nella mia testa e io sto camminando nel sogno. Si allontanò dalla bambola. Era meglio che rimanesse lì, nel caso in cui il bambino che l'aveva persa un giorno fosse tornato da quelle parti. Sorella strinse forte gli occhi. «Voglio tornare indietro adesso», pensò. «Voglio tornare dove ero, molto lontano da qui, molto lontano, molto lontano». Per i tuoi pensieri. Sorella fu sorpresa dalla voce, che sembrava sussurrare direttamente nel suo orecchio. Guardò di lato. Il volto di Doyle Halland incombeva su di lei, tra la luce del fuoco e il riflesso dei gioielli. «Cosa? Ho detto un centesimo per i tuoi pensieri. Dove sei stata?» «Davvero? Dove?» si chiese sorella. «Molto lontano da qui», disse. Tutto era come prima. La visione era scomparsa, ma sorella immaginò di poter sentire ancora l'odore del gran turco bruciato e sentire quel vento sulla faccia. La sigaretta si stava consumando tra le sue dita. Fece un ultimo tiro e poi la gettò nel camino. Mise l'anello di vetro di nuovo nella borsa e se la strinse al corpo. In fondo, ai suoi occhi, poteva ancora vedere chiaramente la cupola di terra, la ruota di carro, i resti distrutti di auto e la bambola con la pelliccia blu. «Dov'ero?» si chiese e non aveva una risposta. «Dove andremo domani mattina», le chiese Haaland. «A ovest», le rispose lei. «Continuiamo verso ovest. Forse troveremo un'auto con la chiave nel quadro di accensione domani. Forse troveremo altra gente. Non credo che dovremo preoccuparci molto per il cibo, per un po'. Possiamo trovare abbastanza da mangiare in viaggio. Non sono mai stata troppo schizzinosa per i miei pasti, comunque». L'acqua avrebbe continuato a essere un problema in ogni caso. I rubinetti della cucina e del bagno in questa casa erano asciutti e sorella immaginò che le onde d'urto avessero distrutto le condotte principali in tutta l'area metropolitana. «Pensi davvero che sarà meglio in qualsiasi altro posto?» L'uomo sollevò le sopracciglia bruciate. «Il vento porterà le radiazioni in tutto il paese. Se le esplosioni, gli incendi e le radiazioni non uccideranno la gente, lo faranno la fame, la sete e il freddo. Direi che non c'è un posto in cui andare, dopo tutto. No?» Sorella fissò il fuoco. «Come ho detto», disse alla fine. «Nessuno deve venire con me se non vuole farlo. Adesso dormirò un po'. «Buonanotte».» Strisciò fino al punto in cui gli altri erano rannicchiati sotto i tappeti. Si distese tra Artie e Beth e tentò di addormentarsi, mentre il vento si bilava oltre le pareti. Doyle Halland si toccò con attenzione la scheggia di metallo nella gamba. Sedeva leggermente piegato in avanti e il suo sguardo si spostò su sorella e sulla borsa che stringeva con fare così protettivo. Grugni, pensieroso. Fumò la sua sigaretta fino al filtro e la gettò nel camino. Poi, si posizionò in un angolo, rivolto verso sorella e gli altri, e li fissò forse per cinque interi minuti, con gli occhi che scintillavano al buio, prima di appoggiare la testa all'indietro e mettersi a dormire da seduto.